Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, pagina sindacale in apertura del nostro telegiornale. Ci occupiamo della protesta degli operai dell'indotto dello stabilimento Eni. Arrivate le lettere di licenziamento per i dipendenti dell'elettroclima, chiesto un intervento immediato alle istituzioni. C'è un servizio? Tanto tonuò che piove. I primi segnali c'erano già stati con le proteste dinanzi ai tornelli dello stabilimento Eni, dei lavoratori dell'indotto che rischiano il proprio posto di lavoro. In più di un'occasione si disse che si sarebbero attivate tutte quelle procedure per arginare l'emergenza occupazionale. Ma a quanto pare così non è. La dimostrazione la si è avuta questa mattina. È come se fossimo tornati indietro di un anno, quando a dicembre del 2014 si protestava giustamente per il proprio posto di lavoro. A distanza di 12 mesi gli operai ritornano in strada e hanno scenato un sit-in di protesta in via Generale Cascino ed in via Mare. La sera quando si arriva a casa, attorno al tavolo con la famiglia si è finito di discutere. C'è un silenzio che comincia già a farsi molto pesante. Si guardano i figli, non si discute più. Questi sono i riscontri della situazione in cui siamo arrivati. E sull'albero di Natale, allestito dinanzi allo stabilimento, non ci sono gli addobbi, ma ci sono le lettere di licenziamento pervenute ai dipendenti dell'elettroclima. Tutte le promesse sono svanite nell'urla. Il fatto strano è che lo Stato, chi ci ha preso in gira è lo Stato. Perché noi ogni minimo due volte alla settimana siamo andati in prefettura. Diverse volte personalmente io ho detto che la prefettura rappresenta lo Stato, per cui tutti gli accordi che sono stati firmati in prefettura nessuno li ha rispettati. Per cui se ne è nello Stato che ci difende a noi cittadini, una volta perché il prefetto non c'è per gli immigrati, una volta per la protezione civile, un'altra volta perché noi non siamo cittadini italiani. Ci sono arrivate 58 lettere di licenziamento e quindi a questo punto siamo fuori completamente, non possiamo sfruttare di nessun ammortizzatore sociale. Che noi non vorremmo, noi vorremmo solo lavorare, non parassitare lo Stato. Tutto questo, ecco. Situazione difficile anche per gli operai della nuova X-Gamma, vediamo. Monta la tensione alla raffineriene di Gela. Questa mattina gli operai della nuova X-Gamma hanno protestato in merito ai quattro licenziamenti comunicati dall'azienda. La situazione si è fatta realmente preoccupante. L'indotto è una polveriera. Ieri c'è stato l'incontro all'ispettorato del lavoro e hanno confermato, si è chiusa la procedura e hanno confermato tre licenziamenti. E il 21 ce ne sarà un altro già confermato, che è solo formalmente l'incontro all'ispettorato del lavoro. Quindi quattro licenziamenti. Quindi oltre al danno, la beffa, il danno economico che si aggrava sulle famiglie e la beffa dei licenziamenti. Come fate ad andare avanti? È difficilissimo. Non riusciamo più ad andare avanti, perché non riusciamo più ad arrivare nemmeno a metà mese, non a fine mese. Si aggrava tutto sulle famiglie, sui figli. Questo è insopportabile nel momento di crisi di oggi. A parte che Ronex Gamma non ha voluto sentire di aprire ammortizzatori sociali, noi abbiamo il contratto quadro in raffineria, è stato proposto di aprire la Cigo e altri ammortizzatori. Si sono rifiutati perché fino al mese scorso abbiamo fatto straordinari. L'anno scorso protestavamo, noi per quanto riguarda la nostra azienda, per lo stipendio. Adesso sono arrivati i licenziamenti, quindi qualcosa è cambiato nella sostanza. In peggio? In peggio. E quindi il Natale per le nostre famiglie si prospetta non un buon Natale, ma un cattivo Natale. Si è parlato addirittura di riconversione dello stabilimento che avrebbe dato la possibilità a tanti di lavorare, invece così a quanto pare non è? No, non è, perché la conversione ancora deve partire, quindi parleremo di conversione nel momento in cui si verifica, ancora è tutto sulla carta e vedremo i risultati quando saranno pronti. Adesso si parla e basta, tra il dire e il fare di solito passa il mare. La tensione sociale sale, il sindacato confederale CGL Cisle Will lo sostiene da mesi comunicando alla politica locale e regionale. L'esigenza di fare fronte unico perché soltanto la politica, in particolare il Governo nazionale, può attenuare e risolvere l'avvertenza Gela imponendo alleni tempi diversi per la realizzazione della riconversione per le bonifiche e per finanziare ammortizzatori sociali per evitare che i lavoratori orfani dello storico ciclo industriale basato sul petrolio si riducessero al licenziamento. CGL Cisle Will si legge in una nota sostengono la protesta civile dei lavoratori metalmeccanici e elettroclima che hanno perso lo spiraglio occupazionale dopo sei anni di utilizzo degli ammortizzatori sociali contro chi incendia il mondo del lavoro attribuendo la crisi alla firma del protocollo del 6 novembre. Se la politica e l'ENI attuassero velocemente e integralmente utilizzando anche i 32 milioni di compensazioni avremmo, si legge, ancora meno problemi e meno tensioni che minano l'ordine pubblico. La latitanza di molti e i troppi abili dell'ENI sono da rispedire al mittente. Il sindacato insiste nel fare ciò che si è detto. Al contrario la manifestazione dei lavoratori non sarà isolata. Il sindacato ha incontrato i lavoratori insieme al Vescovo fino a domenica pomeriggio e ha invitato la prefettura a convocare le parti anche per proporre il blocco del pagamento di prestiti e mutuo che i lavoratori hanno contratto. Invitiamo il sindaco di Gela chiude la nota a sospendere il pagamento di Imo e Tasi a coloro che hanno perso il reddito e a tutti i poveri della città. Il vice sindaco di Gela Simone Siciliano ribadisce che l'impegno dell'amministrazione è volto a non far perdere un solo posto di lavoro. L'approfondimento in questo servizio. Poteva essere la panacea di tutti i mari, almeno così era stato detto, ed invece il nulla. Ci riferiamo alla riconversione dello stabilimento Eni di Gela dal 6 novembre del 2014, data in cui al Ministero dello Sviluppo Economico fu firmato il protocollo d'intesa di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, ma il dato oggettivo è che fino ad oggi poco è accaduto. Anzi, per dirla tutta, i lavoratori dell'indotto dalla raffineria ne stanno piangendo le conseguenze. Cosa fa l'amministrazione comunale 5 Stelle? Lo abbiamo chiesto al vice sindaco Simone Siciliano. L'amministrazione continua a mantenere alta l'attenzione sulla criticità indotta dalla modifica del dimensionamento dell'attività produttiva di Eni. Cosa si è continuando a fare? Monitorare i processi affinché le autorizzazioni per l'avvio dei cantieri, molte delle quali sono bonifiche, possano partire e possono assorbire la parte dell'indotto rimasto fuori. Cosa continuano a fare? Quello di avviare nuove attività attraverso la concertazione con i ministeri, con la regione, che hanno in capo tutta la responsabilità attuale affinché i procedimenti possano trovare conclusioni. La riconversione dunque, ma quando partirà? La grida a fine di, diciamo, riceve continuamente conferme di interesse da parte di Eni ad investire. L'amministrazione continua a monitorare affinché il processo trovi conclusione. Anche qui sono processi che sono in capo alla regione e ai ministeri. Quello che sta facendo l'amministrazione, oltre a monitorare, è cercare di concertare con Eni delle soluzioni tecnologiche diverse, più sostenibili, più ecocompatibili, come ad esempio alimentare la bioreffineria con gli oli esausti, gli oli scarti che vengono fuori dal trattamento della quota umida dei rifiuti soliti urbani. I lavoratori sono sull'Astrico, non sanno più come andare avanti. Come può intervenire la Giunta? Stiamo cercando con il Prefetto e con tutti gli enti competenti le soluzioni per poter applicare quelle leggi che possono dare il ristoro agli addendimenti fiscali o comunque agli addendimenti che un lavoratore o una lavoratrice ha, quale ad esempio il blocco dei mutui o il blocco degli addendimenti fiscali ad oggi obbligatori. Anche queste sono attività che poi ricadono da Polizia Autorizzativa in capo alla regione e al governo centrale. L'amministrazione comunque non si vuole sottrarre a monitorare affinché il processo possa trovare esecutività. Operazione Interforze contro l'abusivismo commerciale a Gela. Questa mattina Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Vigili Urbani hanno setacciato il lungo e largo Via Tevere, zone limitrofe dove nelle ultime settimane la vendita selvaggia di ambulanti è proliferata in maniera preoccupante. Le accuse sono di occupazione abusiva di suolo pubblico, sequestrata a merce che sarà devoluta in beneficenza. Adesso torniamo ad occuparci del blitz eseguito ieri dalla Guardia di Finanza di Gela che ha scoperto quattro depositi abusivi di GPL, uno dei quali in un garage di uno stabile messa a repentaglio l'incolumità dei residenti della zona. Una piccola scintilla infatti unita ad una leggera fuga di gas avrebbe causato un'esplosione di proporzioni disastrose. Sentiamo. Tenente, ma se ci fosse stata una scintilla all'interno di quel garage staremmo a parlare di una disgrazia vera e propria? Sì, staremmo a parlare di una disgrazia vera e propria. Il servizio dell'altro giorno ha permesso di scoprire come effettivamente ci fosse ai piedi di un condominio un vero e proprio deposito di gas abusivo che se ci fosse stato un incidente dovuto a una fuga di gas avrebbe provocato un danno esteso. I militari pertanto sono intervenuti, hanno scoperto in un garage una capacità di accumulo di gas potenziale di quasi quattro tonnellate effettivamente c'erano soltanto 800 kg che comunque sarebbero stati sufficienti a causare un disastro. Ecco, ma il cliente che si rivolge al commerciante che vende le bombole di GPL abusivamente è chiaro che ha un risparmio se vogliamo? Sì, è stato calcolato il prezzo di mercato delle bombole sequestrate, siamo intorno ai 5.000 euro, più o meno una bombola a seconda, anche poi bisogna vedere le dimensioni, più o meno sui 20 euro. Ciò che rileva è il danno potenziale di una condotta di questo tipo. Soprattutto, ecco, l'intervento è stato fatto in questo periodo perché dato l'approssimarsi dell'inverno, il fenomeno del commercio abusivo di gas sicuramente è molto più esteso. Nessuno dei residenti della zona vi ha detto che in quella strada, in quella zona, purtroppo c'erano via vai di gente in merito proprio alla custodia delle bombole abusive di GPL? No, diciamo che l'intervento è nato qualche giorno fa studiando da vicino e i soggetti che maggiormente si prestavano a questo tipo di condotte abusive, studiando per esempio lo spostamento dei mezzi e quant'altro. L'intervento è nato quando si è visto il furgone con le bombole caricate uscire dal magazzino, dal garage e iniziare la sua normale giornata lavorativa. E da lì poi ci si è resi conto della gravità della situazione e si è intervenuti, grazie anche e soprattutto alla componente antiterrorismo e pronti impiego della Guardia di Finanza che ha permesso contemporaneamente di effettuare altri tre accessi in un altro deposito accontrato a Giardinelli dove sono state rinvenute altre bombole piene e vuote. L'avvocato Nicola Nicoletti del Foro di Gela è stato eletto componente della Giunta Nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati. L'elezione è avvenuta nel corso dei lavori del Consiglio Nazionale che si è tenuto a Verona ed è riconoscimento per il lavoro svolto dall'Aiga di Gela anche in sede regionale. Molte le questioni che dovranno essere affrontate nel corso del mandato, tra queste come dichiarato dal giovane avvocato di Gela, rientra certamente il riordino della geografia giudiziaria con la più volte paventata in sede ministeriale chiusura della Corte d'Appello di Caltanissetta. L'avvocato Nicoletti ha infatti più volte auspicato il mantenimento della Corte d'Appello di Caltanissetta anche in considerazione delle carenze infrastrutturali che renderebbero certamente gravosa la tutela dei diritti dei cittadini del nostro territorio. Domani alle 18 il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina Monsignor Rosario Gisana sarà in visita ufficiale alla Casa del Volontariato di Gela e terrà una relazione dal titolo La Valenza Sociale e Politica della Misericordia Quale? Volontariato per il Bene Comune L'incontro è aperto a tutti i volontari impegnati in gruppi, movimenti, associazioni e cittadini che vogliono aprirsi all'esperienza del volontariato. Ci fermiamo, la linea va alla regia per la pubblicità Torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale Continuano le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal Comune di Gela Fino al 6 gennaio nei locali di Palazzo Ducale Mostra di Presepi, Vita di Gesù, Di Francesco, Bonvissuto Da domani e fino al 10 gennaio Pattinaggio su Ghiaccio, Eventi, Mostra di Presepi, Albero della Vita nel piazzale della Chiesa di San Rocco, a Cantina Sociale Sempre fino al 6 gennaio nel Palazzo Regina Margherita Presepi artistici Da oggi fino al 15 dicembre nella Chiesetta San Biagio Mostra dell'artigianato femminile creative è Natale 2015 Sabato 12 novembre alle 18 nei locali del Museo archeologico regionale Mostra d'arte contemporanea mediterranea a cura di Salvatore Parla Greco L'iniziativa è dell'Accademia Internazionale Città di Roma Il terzo circolo didattico di Gela Diretto da Angela Tuccio organizza per martedì 15 dicembre prossimo L'evento Apro le mie finestre al mondo Rivolto a tutta la cittadinanza Nei suoi plessi Santa Maria di Gesù e Benedettine Dalle 10 alle ore 12 Dalle 16 alle 17 Gli ospiti saranno accolti da mini guide Accompagnati lungo un percorso che li porterà a visitare le Aule 2.0 Aumentate dalla tecnologia ad assistere alle attività che la scuola attua E a conoscere i progetti proposti tesi a realizzare al meglio le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale Natale in casa Cuppiello Si tratta del prossimo appuntamento previsto il 12 dicembre alle 17.15 Alle 21.15 al Teatro Comunale Eschilo di Gela Sul palco Enrico Guarneri La regia è di Antonello Capodici Per informazioni il botteghino resterà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 Per informazioni 0 933 91 18 92 Oppure 345 58 80 580 Prenderà il via il 15 dicembre prossimo la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela Protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, Lasciate Libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia L'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro Mentre il singolo biglietto costerà 15 euro Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 Arriva il grande jazz a Gela appuntamento al Teatro Comunale Eschilo Venerdì 11 dicembre Francesco Caffiso in duo con Mauro Schiavone Giovedì 17 dicembre Antonella Ruggero Venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21 Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino Dalle 17 alle 20 per informazioni bisognerà chiamare i numeri di telefono 0933 91 18 92 Oppure 345 58 80 580 Corri con papà Natale Sesta edizione si terrà il prossimo 12 dicembre alle 9.30 In piazza Umberto I a Gela L'iniziativa sportiva è promossa dall'associazione Green Night Sport Preseduta da Giuseppe Veletti Informazioni e iscrizioni al numero 347 57 99 271 Domani alle 11.30 presso l'aula magna del liceo delle scienze umane Dante Alighieri All'ex magistrale di via Europa Gela Il Lions Club del Golfo di Gela Preseduto da Eugenio Piazza Presenterà agli studenti il progetto Martina Parliamo con i giovani dei tumori Il progetto che coinvolge ogni anno circa 150.000 studenti italiani Ha come obiettivo quello di portare a conoscenza dei giovani Che oggi è possibile evitare molti tumori e aumentare le probabilità di guarigione Con la conoscenza e l'applicazione di semplici accorgimenti Relazionerà Giuseppe Di Martino Chirurgo-senologo assieme a Salvatore Migliore Componente della commissione distrettuale del progetto Martina Alla fine dei lavori, cui parteciperà pure il presidente dell'ottava circoscrizione Lions Massimo Giordano Gli studenti saranno chiamati ad effettuare un test che permetterà di valutare l'efficacia della giornata Adesso parliamo di sport C'è il calcio Monta l'attesa per lo scontro al vertice previsto per domenica prossima al Presti Il Gela riceverà la visita del Dattilo Noir Si affronteranno quarta contro seconda Vincendo i biancazzurri si porterebbero ad un tiro di schioppo Dalla vetta occupata dalla San Cataldese Ne abbiamo parlato con il tecnico Totò Brucculeri Lo sentiamo Mister, possiamo definirla quella di domenica prossima La gara di tutte le gare La madre di tutte le partite Perché affronterete il Dattilo Noir E vincendo è chiaro che si punterebbe realmente in alto Ma io la considero la figlia di tutte le partite La madre non direi Perché penso che Ci sono tante figlie Delle grandi partite Una partita come tutte le altre La partita che stiamo preparando in maniera serena In maniera tranquilla Sappiamo benissimo di affrontare l'avversario a tutto rispetto Che fino a questo momento Fino a domenica scorsa Ha condotto il campionato in terza della classifica Per cui qualche merito ce l'avrà Facendo un attimo un passo indietro Contento del pareggio ottenuto a Casselbuono Oppure considerato che il pareggio dei locali è giunto in zona Cesalini Ci è rimasto male? Ma sai, questi sono i classici bicchieri Mezzivuoti e mezzipieni Prendere i gol nei minuti finali Rimane un grande rammarico di poter Però devo fare un applauso ai ragazzi Anche se avevamo delle assenze Eravamo a deficitare in qualche reparto I ragazzi hanno fatto il massimo Sono contento per quello che stanno facendo Stanno lavorando alla grande Sono molto fiducioso È arrivato uno nuovo difensore centrale Russello Giocherà già da domenica prossima? Vedremo Stiamo valutando le condizioni del ragazzo Con la consapevolezza Insomma di metterlo in condizione di poter giocare domenica Per domenica prossima è chiaro che il Giocherà si aspetta il pubblico nelle grandi occasioni Perché lei sottolineava Non è la madre di tutte le partite È la figlia di tutte le partite Dunque quale miglior contributo può dare il dodicesimo uomo in campo? Ma penso che Lamentarsi del pubblico Noi Abbiamo avuto sempre un pubblico importante In questo progetto societario Dove ci accompagna domenicalmente anche in trasferta Io Devo dire che domenica scorsa A Castelbuolo Facendo tanti sacrifici A tanti chilometri La tifoseria organizzata è stata presente Certamente In questo momento magari Dalle feste eccetera eccetera Diciamo Il tifoso c'è sempre Magari Uno non è che deve fare un appello Sarebbe Per i teri insomma Chiedere alla gente di venire allo stadio Io Penso che È giusto Che allo stadio vengano i tifosi Quelli che vogliono bene il gelacalcio Il classico consumatore dello spettacolo E altre persone che insomma Si vogliono avvicinare a questa realtà Non è giusto dire Venite allo stadio Insomma Attifare per la vostra squadra La squadra è vostra E noi rappresentiamo il gelacalcio Per cui chi si sente tifoso Insomma viene allo stadio Dovrebbe essere un fatto normale Sì io penso che Il tifoso è il tifoso L'ultras è l'ultras Il consumatore dello spettacolo È quello che ogni tanto viene allo stadio Io mi affido all'intelligenza del gelese Che sa benissimo che è la squadra del cuore Dove ci tiene tantissimo E che noi penso come società Come squadra Stiamo facendo il massimo Per poterli avvicinare di nuovo allo stadio Proseguono gli appuntamenti In occasione dell'ottantunesima Stagione concertistica gelese Promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra Domenica 13 dicembre alle 19 Nei locali di Palazzo Pignatelli Quartetto lirico strumentale Con Giovanna Nuara Soprano Pinella C'è la pagina dello spettacolo Oggi al Cineteatro Antidoto Nell'ambito della stagione teatrale La compagnia dei Saitta Porterà in scena i rusteghi di Carlo Goldoni L'inizio dello spettacolo È previsto per le 21.30 Lunedì 28 dicembre alle 21 La compagnia teatrale Antidoto Porterà in scena Nabriscola Commedia in tre atti Di Tiziana Guarneri La regia E di Giancarlo Bella E da domani Sempre al Cineteatro Antidoto di Macchitella Sarà proiettato il film Leone nel Basilico Sono tre gli orari di rotazione della pellicola Ve li ricordiamo 17.30 19.30 21.30 È tutto anche per questa edizione Del nostro telegiornale Grazie per aver scelto anche oggi La nostra informazione Vi ricordiamo che notizie Servizi e approfondimenti Sono reperibili sul nostro portale All'indirizzo web www.tg10.it Vi ricordiamo inoltre Che il nostro televideo È costantemente aggiornato Grazie Arrivederci Ciao